Oroscopo del giorno. Mercoledì, 10 ottobre, 2018. Ariete. Toro. Amore, se volete voltare pagina dovrete cancellare il passato. Evitate qualche brutto ricordo e concentratevi sul presente che promette di essere molto positivo. I singologi saranno particolarmente nervosi e dovranno ascoltare la ragione per riconquistare la serenità. Lavoro, siate tenaci insistete se volete ottenere ciò che desiderate. La vostra esperienza vi aiuterà a spianare la strada. Gemelli. Amore, le incompressioni e i litigi oggi saranno una costante delle coppie. Alcune potranno chiarirsi, altre arriveranno ai ferri corti, ognuno prenderà la decisione più ovvia. Buone notizie per i single, con Marte che protegge lamore e gli incontri. Cose importanti sono in arrivo. Lavoro. Lavoro, oggi avrete tante opportunità per intrattenere nuovi contatti professionali e raggiungere nuovi traguardi. Cancro. Amore, oggi sarete dei grandi ascoltatori e dispenserete consigli che saranno preziosi per il vostro partner. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e stimolante. I single saranno un po' impazienti e poco tolleranti e dovranno mostrare coraggio e spirito di decisione. Lavoro, qualche incertezza frenerà i rapporti con i colleghi. Superate linsicurezza se volete raggiungere gli obiettivi. Leone. Amore, sbarazzatevi dei pettegolezzi e siate determinati nelle vostre scelte. Non mettete in imbarazzo chi è presente nella vostra vita, potrebbe risentirsi e fuggire. I single potranno incontrare una persona speciale ma dovranno adottare le giuste precauzioni per non deluderla. Lavoro, sarete animati da una grande forza interiore che vi consentirà di esprimere liberamente le vostre idee. Virgine. Amore, oggi vivrete momenti indimenticabili con le persone a voi care. L'influsso di Marte vi farà toccare le gioie della felicità, godetevi ogni attimo. Gli amici single potranno avere bisogno dell'aiuto di una persona fidata per risolvere un problema. Lavoro, sarete contenti di come vanno le cose sul fronte lavorativo e vi concederete una pausa. Un momento di respiro vi farà bene. Bilancia. Amore, qualche difficoltà in amore vi getterà nello sconforto. Analizzate le cause e rimediate se potete. Altrimenti attendete che passi questo momento burrascoso per vedere tornare il sereno. Ottime prospettive per i single, la giornata sarà estremamente positiva. Lavoro, riflettete su alcune decisioni che potrebbero cambiare la vostra vita. Valutate ogni aspetto con molta attenzione. Scorpione. Amore, qualche novità sul fronte sentimentale può spiazzarvi. Fate il bilancio della vostra vita e cercate di capire cosa vi ha turbato e se volete riprovare di nuovo le stesse emozioni. Si apre una giornata positiva per i single che potranno fare delle conoscenze interessanti e utili. Lavoro, organizzatevi bene per mantenere tutti gli impegni di lavoro. State attraversando una fase tranquilla e siete molto fiduciosi. Sagittario. Amore, frenate limpulsività e riflettete prima di agire. Se desiderate riprendervi i vostri spazi, cambiate qualcosa nella vostra vita ed eliminate ciò che vi causa disagio. I single oggi potranno provare a rilassarsi e cominciare a costruire il futuro senza rimpianti. Lavoro, sarà una giornata densa di soddisfazioni. I rapporti di lavoro andranno a gonfie vele. Capricorno. Amore, se siete in coppia oggi dovrete valutare le vostre scelte. Per molti sarà una giornata importante per le convivenze o i matrimoni, ma per altri potrebbero esserci rotture. Per i single è giunto il momento di selezionare le amicizie e cancellare quelle false. Lavoro, oggi avrete una grande forza di volontà che vi porterà a condurre ogni impegno positivamente. Possibili avanzamenti di carriera. Acquario. Amore, prima di gettarvi in un rapporto verificate se la persona merita le vostre attenzioni. Per le coppie oggi è una giornata di chiarimenti e qualche novità potrebbe saltare fuori. I single dovranno stare attenti a qualcuno che vuole tendere un tranello. Lavoro, con giove nel segno saranno favorite le soluzioni a molti problemi. Anche gli affari saranno protetti e concluderete accordi vantaggiosi. Amore, perdonate il partner per qualche mancanza che ha fatto. Non vale la pena tenere rancore per cose di poco conto. Chiarite un problema prima che la situazione degeneri. I single dovranno fare attenzione a non fidarsi di un amico pettevolo. Lavoro, prima di progettare gettate basi piuttosto solide. Solo così potrete costruire qualcosa di concreto e raggiungere obiettivi importanti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.